Come prima invece abbiamo preparato degli spaghetti con un ragù di sgombra e uva sultanina. Abbiamo preso lo sgombra fresco, l'abbiamo spinato e abbiamo fatto dei dadini, li abbiamo fatti soffreggere con la cipolla per una decina di minuti e a fine cottura abbiamo aggiunto il pomodoro tagliato a pezzettini e l'uva sultanina. Abbiamo condito gli spaghetti con questo ragù.